Per me sono più contenta io di te Perché dici? Per me sono più contenta io Per me sono più contenta io di te Perché dici? No, no, sono contenta io Adesso vedrete Per me sono più contenta io Per me sono più contenta io Per me sono più contenta io Ora siamo pronti Siamo prontissimi, manca solo l'ospite Sì, nuovo membro Nuovo membro della famiglia Sì Adesso andiamo a prenderlo Vai Ciao, ciao Ciao a tutti 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 Sì, io non ci passo adesso Ma si apre? Sì, sì, si apre Sì, io non ti prendi paura Piano, 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 piano Non è successo niente Dove è andata a finire? Ecco Sì, io non ti prendi paura Sì, io non ti prendi paura Ciao a tutti Grazie.